Cosa è in capa ragazzi? Qua Vax è lo Giorgio Ingrado, ci sono Nassolo e sono qui a presentarvi su un nuovo video e ragazzi questo è un video abbastanza particolare perchè oggi sono qui a presentarvi un pack opening innanzitutto lo faccio per due motivi il primo è perchè come vedete sulla pagina facebook ho scritto appunto che i video avreste voluto vedere oggi tanto che domani ho una verifica abbastanza potente di latino quindi devo mettermi a studiare anche a breve e secondariamente per un'altra cosa volete sapere cosa è questa cosa? guardate un attimo ragazzi io ho questo problema fortunatamente e sfortunatamente da oggi speriamo che si risolva più presto guardate un attimo cosa succede io vado per fare una partita questa qua è la mia squadra come voi ben sapete dato che ho fatto appunto lo squad build faccio avanti e mi dà questo errore il tuo profilo giocatore non hai permessi necessari per accedere questa funzione se voi sapete come risolvere questo problema magari se potete scrivetemi nei commenti per favore oppure magari ditemi anche se qualcuno di voi ha lo stesso problema ma se non gli funziona qualcosa così appunto da provare a risolvere in qualche modo comunque ragazzi madonna mi crude l'occhio ma non c'è proprio cosa dentro partiamo subito con questo pack opening però 100k quindi un po' di pacchetti non devo mettere i fa points non so nemmeno perché li schiaccio e se ci ricordiamo nell'ultimo pack opening avevo trovato un giocatore magico avevo trovato su Jesus Navas e solamente lì era tarderimo tipo non potevo parlare infatti vediamo se oggi va meglio anche se non credo perché è un giocatore di così alto calibro non credo di trovarlo comunque il primo pacchetto di oggi vediamo gli occhi aquilani ragazzi e un terzino destro quindi ha tante semplicità minchie pacchetto un po' di merda trunk e andiamo avanti primo pacchetto buttato andato via male secondo tai veloce non guardiamo dai guardiamo anzi guardiamo barzagli va bene dai barzagli not bad conserviamo tutto barzagli barzagli non so nemmeno quanto valga madonna non so se avete visto un nuovo stemme nelle nuove divise che sono abbastanza magiche per la terza oltre fine noi perdiamo questo giocatore ci ispira la grande e ora si alza ci si alza e ci si gira e boom no madonna che schifo ragazzi serve lei io ve la vado a chiamare ve la vado a chiamare eccola qua ragazzi adesso micia fammi il suo favore aprimi il suo pacchetto e poi ti lascio andare madonna mi ha caduto il joystick micia guardiamo insieme lo vogliamo guardare dai 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 guarda guardalo micia micia vattene madonna oggi oggi non è magico oggi non c'è non c'è nell'aria non c'è nell'aria la magicità ora aspettate un secondo ci sta andando veramente malerrimo credo però vidal vidal quando il gioco si fa duro a trovare qualcosa ci pensa Arturo mamma mia dai dai emanuelson perera 90 di velocità minghie incontra mamma mia mamma mia paloschi paloschi tal da robben vado trovare robben mi sarebbe abbastanza piacere guardate adesso c'è il trucchetto c'è il trucchetto pacchetti oro bale vogliamo robben bale vogliamo robben messi no messi no alaba no alaba si 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 alaba alaba l'abbiamo detto dai 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 corona la birra si però è assurdo che noi troviamo non troviamo un caso adesso apriamo col naso col naso dai no messi non lo voglio via uuuh stefanino che è tornato anche a giocare stefanino l'ha chiamato continuiamo a pigiare dai dai mamma mia chi è questo damsey beee che schifo siamo a metà ma abbiamo ancora esaltato in niente eravamo partite abbastanza bene però poi no e Arturo uuuh uuuh si lancia il controllo in aria si aspetta lo stiamo incontrando intanto nooo che schifo che schifo gesù santerrimo dio dei pacchetti piscitella uuuh l'abbiamo chiamato l'abbiamo chiamato ragazzi eh si col gomito no 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 troppo magico col gomito e invece noi apriamo questo perchè se lo sentiamo vabbè ce lo sentiamo ragazzi gressini oppure volete che vi faccia come devo bere che in live ora non ho voglia però uuuh un dc danilo che schifo che schifo non trovi a nulla ragazzi se continua così apro altri 4 3 pacchetti poi basta perchè no no ci va bene dai penultimo penultimo se non c'è ancora niente aspettate dai Messi mamma mia no 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 ultimo pacchetto ragazzi che oggi non è giornata oggi non è giornata e vi chiedo scusa però ragazzi per sapere una cosa la verifica di domani è tipo la penultima mi sembra una cosa quindi si sarà l'estrazione per il discreto più attivo a cui verranno appunto dati 100 mila crediti mi sembra adesso non mi ricordo quanto avevo detto 100 mila crediti ultimo pacchetto non troviamo niente sono stato poco sfortunato verranno dati 100 mila crediti come diventare l'istituto più attivo bisogna commentare condividere me piazzare vedere tutti i video ormai lo sapete e poi l'ultima cosa ragazzi queste cose io le potrò fare se si risolverà questo errore quindi per favore se anche a voi non che se anche a voi se sapete come risolvere questo errore ditelo perché se vado su giocatore singolo a fare la stagione lì si che me le fa fare le partite mi sembra una cosa abbastanza ambigua e però adesso magari provo l'ultima volta sperando che qua vada tutto vediamo non va che bello comunque ragazzi detto questo spero che il video vi sia piaciuto e io ora devo andare a studiare ricordatevi farmi sapere se appunto sapete come risolvere questo problema quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente a palazzi sempre al prossimo video bolla